E' una bella merda Com'è? Ok 10 minuti sono passati No vabbè Vabbè No vabbè No vabbè allora no no C'era una tua nonna e una figlia Sul disco? Che disco? Ma che cazzo di disco è Ciao a tutti ragazzi noi siamo i Cosing Gamespeak Che è che oggi Sta Cioè oggi Ma questo è fatto Oggi siamo su Minecraft Oh non lagga nemmeno Non mi ha dato il seme Bastardo di un finocchio Guarda Ce n'hai 200 D'ufe Veramente Ufe Grano 18 Ufe Eh madonna E' chi se ne è d'accordo Vabbè Poi lo rimettiamo Aspetta lo lasciamo su grano Ma che cazzo Che cazzo Se troviamo un uovo Subito ce ne va a fare la torta Cioè abbiamo anche Netherrack Netherrack che cazzo Netherrack Boh vabbè Ah vabbè Noi andiamo Adesso Chiudo la porta Per non trovarci Mobbing case Ah vai mini No Esploriamo E poi non finisci di esplorare Che cosa esploriamo? Questi due video cureranno molto poco Dicevi niente Eh Che ci sono fuori Che è una sperola In effetti il video più basso Aspetta Tintura grigio bianco Che fai Finne le peccole Allora le cose le abbiamo ripigliate Riesco Aspetta devo mangiare qualche cosa che c'hai nelle ceste no, ecco eh, giù un po' di macchina no, vedi che mi fa giusto una ciotola, va totalmente inutile vai immagino stitizio tu adesso aspetta, aspetta da dormire a dormire ci sono sti due coglioni davanti alla porta quindi vai non sono vicinissimo ecco chiudi la porta ahahah non aprire non aprire quella porta non aprire quella cazzo di porta giocco se il cammello non vedo che mi sono avvicinato da qui ahahah hai chiuso la porta si solo che me la rompe ma ammazzo questo deficiente vai 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 ma è solo lui non proprio non ci abbiamo nemmeno un cazzo di fare non so come era bello scettato qui ma che è andato a lato? apri e apri tu? apri apri non posso buttare le pietre ma che cazzo ma non so se ma ma chi è quello? non voglio viaggiare faccio distretto ma non lo fare non lo fare perché tu non lo fare beh ma sai che c'è? non lo fare la spazioquatrice mi fa tutto veloce ma c'è un bel otto di luminite ma c'è un bel otto di luminite non so direi non so I vetri non so I vetri non so I vetri ma eh che serve per il solo test posto con le palle di neve rosa lì non è stato solo polvere non c'è non è vero come fa un cd non c'è orca vai ammazza e scelta no vabbè da cindar con la mano d'amore d'amore guarda no vabbè sei morto da ciò finirà pittorio chi lo fa l'italia e quindi finito se tu un cinese che non sai si vabbè do cazzo vai dove vai spera di trovare qualche sapling non si sa che cosa ci serve un sapling una cesta duro come il legno una mela quattordici diamanti li prendo è una trappola scusa ma chi l'ha messo? 14 vabbè allora io lo aggiungerei agli altri 5 ci facciamo l'incentive table o armatura so ti do una comitata ah l'incentive table ok oddio sappiamo 19 diamanti come cazzo il cazzo il fottuto culo di merda da trovare i diamanti come cazzo hai fatto a trovare dei cazzo di diamanti dimmelo cazzo non lo sai tu no mettili bene che non fare puttana fare puttana chi è? no un pigman no che cazzo è pigman è quello che sta nel nether cioè è entrato nel nostro mondo dal nether la maglia si fa eh bravo la maglia si fa ma che un battone oh che cazzo sta facendo che si fa? mai così non ti basta non ti basta un porco puttana facciamoci le scarpe cazzo ti servono cazzo ti servono no ma fatti un altro piccone facciamo l'incentive table che cazzo che ho te ne fai con 3 diamanti non li mettere 3 diamanti abbiamo fatto la cesta apposta e questo si ce li mettiamo o no no per fatto la ho metto vai e il motore vabbè questi ce li teniamo abbiamo avuto una mela quindi ci possiamo fare una farming e abbiamo una bella armatura una farming una farm una farm di mele una mela se il video vi è piaciuto come al solito potete lasciare qui sotto un commento mi piace un commento mi piace iscrivervi commentare mettere mi piace e passare da la pagina coaching games di instagram e madre fatta quelle belle quelle belle to non 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 mon non Grazie a tutti